Questo progetto di tesi è intitolato Responsive Surfaces, si tratta di lo sviluppo di superfici cosiddette responsive, cioè in grado di rispondere a degli stimoli esterni e la risposta consiste nella modifica del proprio shape. Nata inizialmente come progetto accademico, l'idea di questa giovane laureata ha già attirato l'attenzione di istituti scientifici e imprese private che ne intuiscono le potenzialità a livello produttivo. Ma quali sono le applicazioni possibili di queste superfici intelligenti? Per quanto riguarda il procedimento, infinite praticamente. Possono modificarsi in funzione dello stimolo che tu, fruitore o tu, progettista, decidi di dare. In questo prototipo io ho scelto di creare una superficie responsiva che reagisse alla luce, quindi ogni volta che il mio sensore registra una differenza di luce fa sì che i moduli della mia superficie responsiva si aprano o si chiudano. Le responsive surfaces potrebbero quindi trovare applicazione nel settore sempre più attuale dell'efficienza energetica. Si può pensare a delle superfici del genere come delle sovrafacciate che si aprono e si chiudono in modo tale da ottimizzare i costi sul risparmio energetico.